Grazie a tutti. Dissi che diventi famoso perché tu... Nonna, aspetta un attimo, voglio sentire un attimo come è qualche persona. Nonna, dobbiamo solo calmarci. Ok, dobbiamo solo calmarci. Tutto va. Solo calmarci. Sentiamo come è la situazione. Sentiamo come è la situazione. Eh, non devi preoccuparti di queste cose. No, però... Ma tesoro, quindi che dici tu sono parole di Satana, Satana, non sono tuoi. Ma voi parole di Satana. Dile, rinuncia a Satana. Ma questo è solo un gioco. Non solamente ha detto che bisogna uccidere tutti i nemici. Sono detto questo, non vuol dire... Non state! Ma no, è un gioco, ma cosa vuol dire? Un gioco, ma è un gioco, ma è un gioco, ma è un gioco. Ma tu non devi comportarti come loro. Ma è un gioco, non vuol dire... Ma è un gioco, ma anche le parole che ti dicono è un gioco. Ma... Minaccele. Ma non è che minaccele, che qua dicono di altri con 1v1, vivo di me, non è minacce, sono cose normali. Comunque adesso ti spiego i comandi. Per muoverti devi premere questa freccia. No, questa freccia è per la visuale. Per muoverti ti muovi qua. Tu sei quello di sotto. Tu sei quello di sotto. Mi ricordo quando cadevo da qui. Eh, me lo ricordi. È un gioco molto semplice. Ecco qua. È un gioco molto semplice. Mi cadevo da qui. E' un gioco molto semplice. Davide non è notte. Ma poverino, ma cosa? Ma no, ma povero Davide. Ma perché? Ma perché? Stiamo parlando di questo. Ma più di la verità. Guardano. Ma cosa c'entra? Terra, terra, terra. Ma dove stai? Muovi la visuale. Ecco, perfetto, brava. La capi meglio della mamma. Poi con questo ti muovi, con quello lì cambi la visuale. Dove vado? Eh, boh, a terra lì. Però nel prato. A terra nel prato. Ma tu non sono andato a terra? Ho atterrato o no? No, non ho ancora. C'è il paracadute? Sì, c'è il paracadute. Ma volevo andare nel prato. Aspetta, per muovere il visuale vuoi questo. Aspetta, questo non serve che lo tieni così. Tieni tutto. Aspetta, fai così. Ecco. Ora, per muoverti con questo ti muovi. No, no, sono più in atto. Ecco, vedi? Solo che lì c'è sulla montagna. Oh, Dio. Non lo torno indietro. Ecco, sono appena morti. Sono sulla montagna. No, vabbè, lasciamo giù. Lasciamo stare, dai. Ci hai provato, no? No, no. Oddio, aiuta. Che disastro, guarda dove è. Ero in un bel prato, lì, poi. Eh, vabbè, dai, ci può stare. Sì. No, non ci può stare, no. Niente. E' brutta questa visuale. Stai girando, te perla, lì a vuoto. E' brutta, è brutta, è brutta, è brutta. Eh, non so, decidi. Lì cosa c'è? Eh, lì c'è un ciuffo d'erba. Ma perché pubblica? Perché pubblica? Poi la gente si unisce, non si fanno gli affari loro. Fuori dai... Guardate via! Ma cosa ci fate qui? Andatevele via! Non ho parole. Meno male che ho messo... Sì. Il locale premia e parla, così non mi sento. Non devo uccidere nessuno? Non mi uccide nessuno. Volevo alzare però una cosa più bella. Non è un senere. Ma faiati, alza la visuale. Oh, madonna, guardate tutte queste persone che entrano, senza più rispettose. So io... E dove devo andare? Devi incontrare qualche nemico. No, no, attento, stai cadendo nel mare. No, no, stai cadendo al mare, aiuto. Tutti puoi camminare. No, lato nel mare si cammina. Eh? Sì. No, 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 no. Che ti farà diventare più comodo. Ok, ti ripristino tutto... Ecco. Aspetta, ripristino. Ecco, perfetto. Ora è molto più lento, quindi dovresti riuscirci. Che prima era molto più bello. Adesso girati di qui. Ecco. Da girare la visuale anche, perché è come tu la testa, no? Dove la giri, poi tu cammini, quindi si mette la visuale un po' più dritta. No, aiuto. Più o meno. Tutto nelle mani della nonna, eh sì. E qua adesso, ecco, perfetto. Vai avanti così. Io non do la casa adesso. No, vai avanti, te devi andare dritta perché vedi, c'è una mappa e te devi arrivare a quel punto là. Adesso c'è il mare, c'è. No, 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 ce la puoi fare. Te vedi, quella lì è là dove sei te, in alto. Te sei quel puntino qui, guarda. No, non sono quello lì. Te sei qua e questa è tutta la strada che devi fare. Quello dell'albero. E devi arrivare lì. Sì, te sei qua, te sei quella sotto e questa è la mappa. Eh sì. E te devi arrivare qua. E quello che cammina sono io. Sì, quello che cammini sei te. E devo andare dove? Devi andare sempre dritta. Così non sono dritta. Così non sono dritta. perché devi muoverla visuale. Così? No. Beh, cioè sì, vai. Però dovresti tipo voltarti un po' più in qua. Perché vedi che stai camminando in laterale. Eh appunto. Questo è detto. Eh sì, ecco bravo. Oh, perfetto, perfetto. Andiamo bene. Adesso siamo dritta. Adesso sei dritta. Adesso devi alzarti in piedi perché sei accovacciata. Ah sì? E beh, devi tenere premuto quello. No, l'altro, l'altro, tenelo premuto. No, l'altro, l'altro. Questo? Sì, tenelo premuto. Non si ha. E tieni premuto quello e la visuale in alto. Pronto. Sì. Ok, riabbassa la visuale. Sta arrivando una tempesta che ti sta per... Eh no. Ti sta facendo. Sta arrivando una tempesta. Come quella di stanotte. Eh sì, come quella di stanotte. E la vedo dura. Dove va? D'aiuto. Sono nella tempesta. Eccola. No, sì, ora sei su un muro, però dai, va bene comunque. E io devo andare contro la tempesta. No, sì, dovete scappare. La tempesta ti fa male. Ti toglie la vita. Eh, stai perdendo vita. No, no, no. Dai, ce la puoi fare. Sì. Lo togli e manda la testa. Tutto nelle tue mani. Come ha fatto? E devi andare in avanti. Eh, ora vai. Sei ferma. Sfè, spostati, spostati là. Spostati in là. Vai sempre dritta. Stai dando indietro. Indietro devo tornare. No, in avanti, avanti devi andare avanti. 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 Vai vogliamo la vittoria. La tempesta. Eh, no, stai andando contro la tempesta adesso. Ma poi è... No, stai andando di contrario. Stai andando dalla parte opposta. Tornando verso la tempesta. Ecco. Ecco. Hai fatto un po' di capriole. Stai continuando a girare intorno. Che mal di testa. E dove va? E vai sempre dritta. Sempre dritta. Sempre dritta. No, adesso stai andando in mezzo al mare. Stai per andare. Stai andando dalla tempesta. Vabbè, dai. La prossima volta... Ti portiamo in un posto meno con montagne più tutto piano. Eh, sì, perché... Che questo c'erano troppe montagne qua. C'erano troppe montagne. In mezzo al mare. C'erano troppe montagne. Oh, mamma mia, si è rimessa pubblica. Non capisco perché si è rimessa pubblica. Privata. La gente entra. Eh, vabbè, guardati il mare. Guarda il mare. Stai guardando il mare. Stai guardando il mare. Stai guardando il mare. E cosa cambia? Eh, no, vedi, guarda il mare. Fa che bello il mare. No, ma già è vero. È vita. Addir, guarda. Pum. Un. 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 un consiglio però non vorrei parlare insieme dalla barbara non a caldo probabilmente a caldo se ci vado io a sola gli dico le cose no basta ormai non cuorelo più perché mi ha detto che addirittura posso perdere non posso andare nel torto io bello mi insultano e vado nel torto io si può succedere quello è il guai che tu non lo so queste cose di giustizia non le sai però sono brutti capite ti metti in un mare di guai e non sai come finisce non è che tu c'è la certezza che ti danno ragione e poi va a finire appunto poi sono offese non li prenderà la letta sono offese gravi ma non lo hai detto tu tu ne dici anche però no io non ho risposto questo ma tu ne dici ad altre non è che tu sei proprio innocente se l'occasione è quella capito ma non si dicono a nessuno ma infatti adesso te l'ho detto anche quando questo te l'ha detto dici queste non si dicono sì ma il problema è che è che uno non si può contiene così perché non è la prima volta ma questi non lo capiscono e continuano capisco se invece vedono che che io agisco non lo fanno più loro te lo fanno però adesso non voglio parlare queste cose perché non capisco neanche il senso di farlo no cancello no però figurati dovrei perdonare dire non è successo niente non ci penso neanche a perdonare se a te ti chiamano e ti dico una cosa del genere se al nonno lo chiami e dico una cosa del genere no no non si può continuare così non non è una guerra sei l'hai con un zub lo sappi che è una guerra non si finisce mai tu offendi lui lui l'offende te come la mafia fa la mafia cosa fa ammazza uno non lo so già non lo so perdono perdono certo li perdonerò perché non sanno quello che dicono certo l'ha detto Gesù sulla croce già detto a suo padre perdonare perché non sanno ma Gesù era Gesù io sono un essere umano ma tu devi seguire i suoi senti un essere umano ormai non si sente più bella ormai si è creato lui ne lo so ma adesso noi non siamo qui per parlare di queste scemenze non sono scemenze vedo che te la prende a cuore basta non la parola ti fa male anche a te e infatti le metti infatti si fa male anche se non ti logro vanno infatti però la calunnia è il peggior del veleno allora no tu sei quella di sotto certo da una prima adesso con la freccia ti muovi in avanti con questo ti muovi in avanti guarda con questo vai a o a destra o a a sinistra o vai un giro completo non c'era più perché hai messo un altro gioco cosa ne pensi di questo gioco non lo conosco non lo conosco non lo conosco una battaglia cosa è eh si una battaglia che si conquista una battaglia adesso ti porterò eh aspetta non dimmi che sia messa pubblica ecco lo sapevo privata subito ok allora andiamo in un luogo piano adesso te non devi fare nulla perché ti sto portando il gioco ok come quella volta quell'altro gioco mi forzava per non farmi cadere qui ti sto portando in un luogo piano è una fattoria visto che ti piace coltivare ci piace coltivare abbastanza ma di più a te ecco adesso vai in avanti vai in avanti con quello ottimo perfetto vai sempre dritta però stai andando tu intanto vai su quel camio vai dentro a quel camio dovresti riuscirci ah stai andando in un modo oddio ma dove sei andata addirittura così lontano allora qua stai pure muotando ok fermati di muotare smetti di muotare gira la visuale e prova a raggiungervi proverò a mettersi un punto non sono salta raggiungo è questo visuale metti la in basso è un po' in basso eh sei un po' in basso però ok adesso visuale devi metterla in basso in basso ecco devi trovare il punto giusto e poi metterla dritta eccola là il punto dove di punto blu ah come avanti si devi cercare di raggiungere il punto blu come non ci vuole eh andando avanti si andando avanti si si andando avanti eh adesso è muoto prima eh si devi muotare devi uscire dall'acqua ah devi uscire sì in effetti questo gioco all'inizio era meno di complicato adesso adesso non mi sa quanto ce n'è io comunque provo a raggiungerti adesso sei uscita adesso devi andare dritto e seguire il punto è quello blu quello 93 metri c'è scritto in piccolo vedi anche il mio nome comunque ecco ci sei ci sei quasi o no adesso mi stanno attaccando ho sentito lì devo bastare si ma sono in prigione si adesso arrivo da te comunque sono in prigione non lo tornare indietro adesso arrivo io adesso arrivo io non sei in prigione sei contro una staccionata se premi R2 premi premi questa freccia e così puoi spaccare le cose con questa freccia vedi puoi spaccare tutto i muri tutto tutto quello che vuoi così si fai si nell'arco pianeta lo andiamo a me puoi spaccare le cose col muro con un biccone noi siamo fantasmi no non andiamo a tre come i muri chiusi forse chiusi questo gioco infatti una luce così poi diventa una persona quindi può entrare la questione mamma mia se questo ragazzo che figlia a 15 anni ha fatto vedere a tutti che attraversa i muri no lui è morto di violenza mia poverina ma adesso lo fanno santo a 15 anni cosa ha fatto questo ragazzo? ha fatto vera e lui voleva usare il compito per evangelizzare i miei figli e ha fallito no ma è diventato santo hai diventato santo si adesso ha fatto vera no ma gioca però sei lì ferma si è fatta notte ha guavito giocava anche giocava si ma guarda cosa è la prima volta che lo sento sono sono quello davanti a te vedi sconto veramente dove vai segui me segui me guarda sono qua vieni qui vieni dove sono io qua di qua mei sono qui sono qui seguimi ecco dove sti aspetta eh sono qua sono qua vieni sei dietro di me si adesso te muovila visuale verso di me vieni qua ecco più o meno muovila più in alto un pochino più in alto ma se vuoi abbassati un po' il mascherino non andate per il naso no è nato non c'è vieni adesso muovila visuale un po' più dritta più dritta come la faccia destra no 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 più ecco ecco se te c'eri un po' più in basso ecco 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 ora girati verso di me col movimento però col movimento con quello per no con questo prima ok e nel frattempo eccomi vedi sono qui ora gira la visuale ecco guava brava ecco stai andando un po' più indietro ma io sono qua sono qua io vedi la guedi questa cosa vedi quella cosa là è una pistola è una pistola vieni e devo andare lì si devi andare qua ti ho fatto la strada devi prendere quest'arma no le pistole oh brava l'hai presa si l'hai presa ma io devo sparare e adesso poi premi queste e scegli l'arma con questa freccia qua esatto e per sparare premi questo per mirare invece questo ma ti ho sparato al pavimento eh scusa appunto è fermo eh boh se poi ci vuoi rimuovere ripeterti lascia premi questo e ora divertiti va in giro e trova le cose devo trovare va in giro divertiti cammina e dove cammina che c'è? eh trovi le cose vuoi spaccare vuoi spaccare tutto per passare devo spaccarli se vuoi spaccare puoi spaccare col piccone si può passare? si puoi passare si puoi passare ma io intanto ti do non prate ti do delle armi che puoi usare si non vado da nessuna parte adesso andando a caso ah forse dove devo andare? adesso vieni con me aspetta io sono qua io sono qua sono qua ecco adesso ok adesso seguimi 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 mobila visuale che sono alla rovescia ecco abbassala ecco 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 ora seguimi oh più o meno più o meno più o meno che cosa va? stai andando il laterale però dai mi stai seguendo però dai da destra si vieni dritto vieni dritta perfetto vieni dritta dritta? dritta ditta ma non ti vedo più perché devi un vabbè ci stai andando no stai andando stai andando stai andando stai un attimo sparendo no, torna indietro che sei distanto dall'alcobaleno qua, qua sono qua eh, ho visto ok perfetto ora segui dove sei davanti? vieni qua io sono qua adesso ti faccio la strada non so come ti faccio la strada qui ci sono gli eroi personaggi qui ci sono mi sto facendo una strada per andare dopo? per raggiungermi tu devi andare solo dritta e basta poi svolti è una strada e poi svolti a sinistra a sinistra ecco così non è una strada però perché devi muverti la visuale poi muovi la visuale e dove la muovi? e muovi la tieni a dritta dritta la persona? dritta, tieni a dritta dove vai? oh, si iniziano a sparare oh madonna questo è quello che spari sempre tu? no va avanti si vai avanti va indietro ok, vieni seguili oh, più o meno vai R2 la freccia quella là quella lì quella lì quella di sotto spacchi tutto spacchi tutto stanno attaccando stanno attaccando eh, vabbè non si vede niente non si vede niente non si vede niente non si vede niente ok ok adesso sto venendo da te tu premi quadrato e prova a curarlo ok adesso vai ecco tu premi la freccia questa qui e prova ad attaccarlo con la pistola la pistola è sempre questa è la pistola? sì, quella è la pistola no, quell'altra quella questa è la pistola prova ad attaccarlo con R2 la freccia, no la freccia era quella lì ecco esatto appena lo vedi attaccalo arriva eccolo lì eccolo lì l'ha ucciso l'ha ucciso l'ha ucciso me l'ha ucciso me eh oltre a volte che muoio eh sì buono donne questo ragazzo Carlo anche dopo morto ha fatto vedere agli amici tutto il paradiso e con i suoi gatti tiene il gatto ai gatti che ha avuto da piccolo eh i cani e tutto l'ha ucciso l'ha ucciso ha fatto vedere come giocavano in paradiso gli animali non muoiono cioè sono anche loro fanno parte della casita e quindi te li trovi in paradiso anche loro non hanno naturalmente la porta dell'uomo però tutti te li trovano ok è una storia bellissima vuoi riprovare? no mi sono due c'è già tre due tre volte vai andiamo allora certo no fammi vivere una volta eh ma perché è complicato già lo schermo è diviso quindi è difficile eh sì però quelle di una volta erano più belle sì perché qua è più complicato per la villuare sono complicati eh ma mi commio qua eh prima era solo un tasto qua invece sono ah sì però c'erano le frecce dentro, su, giù tutto però c'era una una linea che sapevi dove andare eh qua è più libera scelta più opzioni più libertà mamma mia penso a una strana che dici che mi trovo come questo solo perché non l'avete saputo usare eh ma cosa c'era da usare in un gioco erano usati male non solo tu magari ma lo usano per porno per fare cose ma ma questo è forte questo è un gioco io dico quelle lì dove sono? tutte quelle per muoversi devo sparare? no adesso siamo in attesa che la ecco allora sono sempre io che adesso ti guido eh però adesso visto adesso adesso ho cambiato questo maggio adesso andiamo no il personaggio è sempre lo stesso no quello di prima era ah sì è vero è cambiato è cambiato ok adesso ti porto ok 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 ora girati girati dal mio lato di 360 gradi giro a destra giro a destra adesso fa vedere eh giro a destra ad eh due volte a destra eh sì non mi giro non mi giro la visuale devi muoverla con questo e poi allo stesso tempo ti muovi quella è la testa non mi giro mai come si gira? perché fai del piano più delicatamente così così piano piano così piano piano poi ti giri verso il punto dove sono io e inizi a camminare fai piano però non così per piccoli ecco così piano piano se vuoi aumentare semplicemente aumenta di più la leva così e per saltare premi questo eh sì perché adesso c'è una montagna quindi prova a saltare e nel frattempo vai avanti e vmx è così oh ho visto? beh questa è stata un'ottima giocata adesso? adesso vai sempre dritta finchè non vi raggiungi devo saltare vedi? oppure da laggiri la montagna capito? lì c'è la montagna ripida non ce la fa? eh prova a salire sulla colline non salgo? ma sì che ce la fa era una montagna ripida era una montagna ripida com'è? ah sì ce la puoi fare ah si puoi fare ah si puoi fare niente ce la puoi fare ce la puoi fare ah sì guarda finita la montagna devo andare avanti ma cosa ce la fa? eh prova a raggiungerti oh ti sta sparando uno oh ti sta sparando uno ferma aspetta aspetta prova a piccolarlo col piccone col piccone col piccone di me di manentare occhio occhio è potente è potente occhio è potente devi provare la pista nonna e dove vanno? con la piccola occhio occhio ti sta sparando occhio ma non c'è la pistola occhio ci ha portato ci ha portato ok va bene ah io vai col piccone ok va bene ti stai curando buona fortuna no maledetto no ti ho aiutato io grazie del gg sono morto? grazie del gg si sei morto però adesso ti sto curando ti sto curando ok dove è finito il tizio? dove è il nemico? eh ormai l'ho l'ho ucciso ah l'hai ucciso però non so dove è finito perché il suo cadavere camminava allora adesso ti prendo un veicolo così ti porto in auto perchè sono ferito? perchè sei ferito perchè sei ferito è certo sei ferito ovviamente con tutto quello che ho ricevuto beh ti hanno massacrato di proiettili non mi muovo più il problema è che non vedo niente vediamo se sono in grado di camminare in grado di camminare si ok niente più veicolo perchè non lo trovo più comunque no ma se viene qualcuno quanto fa? eh la fine se viene qualcuno alla fine no come gli sparo io? non so niente aspetta che volevo aumentare ecco la luminosità ma infatti ok seguimi muovila visuale no 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 seguimi seguimi adesso? lentamente si seguimi adesso ma se non ma dove è finita la barca mamma? sono qua no sei dato opposto gira la visuale gira la visuale così stai saltando gira la visuale con la freccia lì ecco seguimi ecco perfetto perché fanno piano pianissimo ecco ora seguimi sta arrivando la tempesta vai vai corre corri vedi Renato vai vai seguimi va bene così va bene così va bene così va bene così adesso provo a trovare un veicolo se trovo un'auto perché ci sono le auto ti porto in auto capito? no queste qui sono arrugginite no dove sei finita aspetta no non è finita non è finita no non è finita non è finita adesso aspetta adesso aspetta vieni qua vai avanti vai vai ti sto portando vai salta sopra qualcosa salta adesso salta salta x x x x x x x no stai volando ok facciamo così diciamo così adesso questa la perca Adesso ti porto io Adesso andiamo sull'auto Andiamo sul camion No, fermati, fermati Fermati Ok, adesso andiamo sul camion Ok Ok, vieni con me Allora, finiti al camion Vieni quadrato, quadrato, quadrato Quadrato, quadrato Quadrato, quadrato, quadrato Questo qui quadrato Guardate questo, guardate questo Oh, vai, vai, ora non fare niente Adesso guido il sito per salvarci la mia No, ma sei rimasta a terra Ma come? Perché non hai preso? Ma perché entro uno due volte quadrato Ma no, no, ma adesso ho fatto il quadrato Sei inquadrato Sei inquadrato, inquadrato E anche questa è andata Morto Morto Ma perché stavo che eri salita Morto Oh Gesù, ce l'ha messo un'altra ragazza No, ma scusa Non ho mai fatto salire sul camion Ma io credo che avevi premuto quadrato E poi adesso aspetta che non è Ma adesso aspetta che non è Ho tenuto troppo stretto Mannata Basta Vuoi provare? Non tremo Perché li vuoi riprovare? No, se non sono capace Devo incalare tutte queste treze Eh sì, complicato Decidi Non so combattere Non è finito quando devo sparare Vabbè, ma perché stai facendo progressi Stai facendo progressi Stai facendo progressi Diventerai un player competitivo Ma se vuoi andare, non so Se vuoi rimanere Dovevo vincere una volta Dai, dai, dai Ultima, dai Proviamo Perché se usiamo le macchine Secondo me Ce la facciamo Almeno per le prime parti Poi per le uccisioni Potresti farci Perché trovi giocatori Che sono al tuo stesso livello Sono troppo Quello lì non ti ha la colpita Troppo avanti Se non mi vedono Mi accidono Io non sono veloce Ma prima ce l'avevi quasi fatto Perché? Forse col mouse e tastiera ti trovi No, ma anche a conoscerle Quando devo Con mouse e tastiera ti trovi meglio Con questo giocavamo Con questo giocavamo Con questo giocavamo Conoscerle tutti Si stava giocando Si è quadrato È una torta vita Come mai Dovevo scettare piano Forza Non so Non so Non so Allora adesso Devo portarti in un posto Sono molto indeciso Ma è sicuro Dobbiamo andare in un posto Tranquillissimo Una spiaggia Ah è vero Cai nel mare Allora una città Una casa su una collina Una casa su una collina Ok adesso ti porto Allora andiamo in quella città Allora andiamo in quella città La che vedi Allora andiamo in una città Allora Ok vai così E ora vai sempre Muovi la visuale un pochino Per inclinartela dritta Però piano piano Non violentemente Pezzetto per pezzetto No Pezzetto No vedi non di fila Fai Uno E lui hai capito Perché sei Fai un pochino piano Ecco Va già morto Tu dove hai vado? Con questo? Ah aiuto Mi ho detto che la spiaggia era meglio Sei andata Allora tutta l'altra parte Ora è un casino Torno indietro? Eh ora si Eh di mai diritto Non è iniziato Eh ma no Sono morto Come va? E' stato un tranello Sì è stato un tranello Facciamo che la prossima volta Seguo te Tu sei ancora in vita Comunque Eh non so cosa faccio da sola Ah vuoi di parlare Ma solo no Mamma mia Niente Ti arrendi Ti arrendi Ti arrendi Me lo prometto La mamma è un po' più forte di te Ci senti Arri recti Ti arrendi Mi Grazie.